L'ex Policlinico fa ancora discutere. Nel prossimo Consiglio Comunale sarà Beppe Lauria a risollevare la questione che riassumiamo brevemente. Nel lontano 1998 la proprietà dell'ex Policlinico, a seguito di un'asta pubblica, cui partecipò anche il Comune di Cuneo, venne ceduto ad una società ligure e l'immobile in questione aveva, e da tuttora, un vincolo di destinazione d'uso. Il vincolo è sempre stato riconfermato dalla pubblica amministrazione e da tutte le forze politico-amministrative. Queste si sono sempre dichiarate contrarie a modifiche del sopracitato vincolo di destinazione, salvo che quest'ultimo non avesse presentato per la città, non solo per la proprietà, un tangibile valore aggiunto. A tutt'oggi incombe sulla proprietà come sull'amministrazione cittadina, visto che il sindaco è responsabile della salute pubblica, l'incombenza di mantenere pulita e sicura la zona, cosa che in passato non sempre è stata rispettata. Relativamente a ciò, parecchio rispetto a prima è stato fatto mentre rimane molto da fare, se si considera che la zona è a tutt'oggi occupata grazie all'ingresso creato in prossimità dell'accesso carraio di Corso Dante. Così come, con rischio per la pubblica incolumità, presso il medesimo accesso si lamenti la presenza di comperture di Eternit, ovviamente divenute pericolose per lo stato di abbandono e la mancanza di qualsivoglia manutenzione. L'interrogazione di Lauria verte proprio su questo argomento e chiede se quanto rappresentato corrisponda a verità. Il consigliere di minoranza chiede poi al sindaco che cosa si pensi di fare e soprattutto perché si continui a disattendere, a parere dello scrivente, almeno parzialmente, l'ordinanza del TAR depositata a gennaio 2012. Staremo a vedere che cosa risponderà il sindaco Borgna.